All'interno del cartellone di eventi di Procida, capitale italiana della cultura 2022, non poteva mancare il forte rapporto che c'è tra l'uomo e il mare. E' proprio questo che vuole raccontare Maretica in un'edizione speciale quest'anno dall'8 all'11 settembre. Quali sono gli appuntamenti che avete previsto per questo anno così particolare? Sì, Maretica è una celebrazione del mare. Noi procidani istintivamente, da sempre, essendo una comunità marittica storica, con un istituto nautico di 200 anni, insomma facciamo la sagra del mare, abbiamo l'istinto a festeggiare e celebrare il mare. E dal 2015, prima con il trofeo del mare sportivo, questo meeting di sport acquatici, che poi si è evoluto con l'incontro del premio mare in Maretica, ma soprattutto con l'incontro con Alessandro Baricco e quindi questa è diventata un'occasione di incontro sull'isola, di intellettuali, sportivi, con al centro la volontà di riflettere, di pensare, di celebrare il mare attraverso un premio sportivo, quindi sport acquatici e il premio all'etica sportiva, a un atleta che è meglio rappresentato con un gesto, con un'azione. Quest'anno abbiamo avuto Giovanni Soldini, premiato all'etica sportiva, e poi soprattutto con il premio Maretica, che celebra un'opera che meglio ha saputo raccontare il mare, che non è necessariamente letteraria, può essere anche, come l'anno scorso, la comunicazione del Museo Galata di Genova. Quest'anno vedremo, abbiamo dei finalisti e quindi ci sarà la sorpresa, ed è l'occasione di ritrovarsi sull'isola e riflettere, ci siamo dati come abstract ripensare l'uomo a partire dal mare, in un momento storico in cui abbiamo bisogno di ripensare l'uomo. E a partire dal mare è quello che noi sappiamo fare da procidani. Allora, da quest'anno, dallo scorso anno, Maretica ha arricchito il suo programma con una traversata storica dal porto di Miseno, dall'antico porto romano di Miseno, all'approdo miceneo di Vivara, in stand-up paddle. Abbiamo le consuete gare di vela, gare di canottaggio, gare di nuoto, se è possibile, quindi il nostro programma sarà abbastanza ricco. Partirà il giovedì con, come diceva Gianni, il Museo Galata, l'anno scorso è stato vincitore, quest'anno sarà praticamente partner nostro nella prima serata di apertura di Maretica, con l'Università dell'Orientale, dove abbiamo un reading di poesie dell'Università dell'Orientale, una presentazione di volumi sulla marineria mercantile italiana da parte del Museo Galata e la Fondazione Chilis. Secondo giorno abbiamo una collaborazione con il MAN, il Museo Archeologico, e Baricco farà un reading lecture con Paolo Giulierini sulla guerra tra i meli e gli Atenesi. Il terzo giorno sarà quello di Maretica, con un finale con un'orchestra, l'orchestra Canova, che praticamente sarà un'orchestra con 26 elementi, che sarà caratteristica quest'anno di Maretica, portare un'orchestra importante per Capitale della Cultura. e il quarto giorno, che è la domenica, chiudiamo con le gare di sportive.